Si terranno mercoledì 8 ottobre, alle ore 10, nella parrocchiale di Monte Crestese e i funerali di Gino Fovanna, il partigiano Topolino. Medaglia d'argento al valor militare per il contributo dato alla resistenza, Fovanna era l'ultimo partigiano superstite della Repubblica dell'Ossola. Le esequie si svolgeranno in concomitanza con l'ottantesimo anniversario dell'insurrezione di Villa d'Ossola, che sarà celebrato in questi giorni con una serie di appuntamenti. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.